benvenuti a prima pagina salute oggi parliamo di cancro alla prostata c'è una novità una nuova tecnica si chiama radioterapia ipofrazionata può finalmente aggredirlo senza entrare in sala operatoria vediamo di cosa si tratta benvenuti a prima pagina salute con noi il professor michele pennisi direttore dell'urologia dell'ospedale cannizzaro di catania benvenuto professore grazie grazie dell'invito bene la novità è molto importante per chi purtroppo è stato colpito da un da un tumore abbastanza aggressivo che è quello alla la carcinoma alla prostata che colpisce in italia o comunque potrebbe colpire potenzialmente otto italiani su dieci di solito diciamo la tecnica molto invasiva che si è usata negli ultimi anni con esiti assolutamente positivi per i pazienti è il ricorso al bisturi quindi il l'ingresso del paziente in sala operatoria la rimozione della ghiandola però adesso c'è una nuova tecnica che permette di sconfiggere il tumore con esiti altrettanto fausti per il paziente ma di incorrere in mero rischi rispetto alla funzionalità e anche dell'apparato genitale bene cerchiamo di fare un quadro prima di parlare di questa nuova tecnica professore secondo i dati dell'aic circa un uomo su otto nel nostro paese ha più probabilità di ammalarsi di tumore alla prostata nel corso della vita perché ci si ammala da cosa dipende allora un dato interessante è che in italia ci sono 144 casi su ogni 100 mila abitanti al nord italia e 109 casi su 100 mila abitanti al sud italia questo perché in parte naturalmente anche la dieta ha il suo ruolo la dieta mediterranea un ruolo protettivo e vi sono poi alcuni fattori come l'obesità e l'abuso di grassi che favoriscono un dato importante la familiarità perché vi è notevole incidenze un incremento dell'incidenza del tumore della prostata in chi ha un familiare in prima linea affetto da cancro della prostata tipo padre o fratello naturalmente si dicono che comunque prego prego professore continui pure sì sì no naturalmente vi dicevo che consideri che siccome il cancro della prostata da una sopravvivenza in genere molto lunga per fortuna e ci ritroviamo con un elevato numero di pazienti affetti da cancro della prostata perché ogni anno ce n'è 100 140 su 100 mila abitanti che si sommano a quelli precedenti sì abbiamo detto che appunto il l'esito è piuttosto fausto appunto quindi positivo rispetto alla sopravvivenza e dati di sopravvivenza dopo l'operazione e pensa che molto dipenda anche da una diagnosi diciamo precoce visto che si sono moltiplicati i ricorsi al psa all'esame del psa spieghiamo di cosa si tratta sì sì assolutamente sì consideri che oggi si calcola una sopravvivenza cinque anni libri da tumore del 91,4 per cento e quando io ho iniziato a fare questo mestiere i pazienti morivano senza poter essere operati perché il tumore della prostata è molto insidioso non dà nessun disturbo e non si può diagnosticare facilmente con le immagini normali come l'ecografia il psa ci ha permesso di individuare pazienti a rischio a cui sottoporre precocemente a biopsia e di conseguenza e di poterli trattare quando la malattia ancora non è in una fase avanzata bene quali sono i sintomi a cui si dovrebbe far caso quando arriva come le dicevo come le dicevo purtroppo la malattia spesso è asintomatica immaginate che la prostata sia un'arancia il canale urinario entri all'interno di questa arancia il tumore nasce dalla buccia quindi dalla periferia non comprime non da disturbi spesso gli uomini vengono da noi perché hanno disturbi urinari legato al fatto che la prostata è ingrandita e comprime il canale urinario noi naturalmente facciamo fare un psa e ci possiamo accorgere che questo è elevato e quindi lo sottoponiamo a biopsia questa è l'importanza l'importanza è che il fatto che l'uomo arrivate ai 50 anni dovrebbe almeno una volta l'anno fare una visita urologica con un dosaggio del psa perché la cosa fondamentale lo screening è la diagnosi precoce prego certamente ci sono dei casi in cui un paziente arriva con allarmi simili prima dei 50 anni è possibile è possibile noi abbiamo diagnosticato cancro della prostata anche a soggetti di 42 43 anni e l'indagine infatti deve essere anticipata soprattutto nei pazienti che hanno familiarità per cancro della prostata questi ebbene che iniziano a 40 anni bene una volta compreso che sia di fronte un paziente che purtroppo è stato colpito da un carcinoma alla prostata fino ad oggi si è intervenuto con un classico intervento piuttosto invasivo ci spiega come come di solito viene effettuato questo intervento allora questo intervento che prima si faceva a cielo aperto adesso può essere fatto con la chirurgia laparoscopica tridimensionale o con la chirurgia robotica determina l'asportazione della prostata delle vescicole seminali e degli infonodi tenete presente però che la prostata è inserita all'interno dello sfintere del rubinetto quello che ci consente di non perdere le urine dovendo togliere la prostata dall'interno talvolta per non per disabilità del chirurgo ma per conformazione anatomica si crea un danno allo sfintere quindi vi è l'incontinenza urinaria definitiva permanente un altro fatto importante è quella della disfunzione erettile questo perché i nervi che determinano l'erezione sono proprio decorrono sulla faccia laterale della prostata e quindi con buona probabilità possono essere lesi tenete presente che esiste una chirurgia del risparmio dei nervi ma questa non è applicabile sempre ma solo in casi particolari con malattia non diffusa e un'altra cosa importante da dire che la stessa chirurgia laparoscopica e anche la chirurgia robotica hanno gli stessi risultati funzionali cioè l'incidenza dell'incontinenza e della disfunzione erettile è uguale a quella della chirurgia a cielo aperto sia un recupero più precoce ma l'incidenza c'è sempre e tenete presente che siccome spesso sono soggetti di età un po più avanzata già possono avere dei problemi vascolari o neurologici e quindi anche operati dal migliore chirurgo in chirurgia robotica l'incidenza della disfunzione erettile è assolutamente elevata diciamo che il quadro è piuttosto difficile e delicato sicuramente il primo punto è quello di ovviamente salvare il paziente e mi pare che su questo punto la chirurgia ha fatto tantissimo in questi anni ed è una cosa fondamentale per quanto riguarda questi effetti collaterali molto sgradevoli come l'incontinenza e l'impotenza dobbiamo immagino fare dei distingui l'incontinenza può essere in qualche modo recuperata cioè annullata nel corso degli anni con degli esercizi? Allora intanto precisiamo il fatto che l'incontinenza riguarda il 5% dei pazienti operati quindi non ha un'incidenza elevatissima poi dobbiamo distinguere le forme assolutamente lievi da quelle importanti nelle forme lievi come dice lei ci possono essere delle modalità di recupero e con la terapia riabilitativa come diceva o con un intervento chirurgico non importante come posizionare un nastro che supporti un po' il canale urinario nei casi più gravi invece si arriva per la guarigione solo all'impianto di uno sfintere artificiale comunque le dicevo è il 5% però lei consideri che un centro in cui sottopone 50 pazienti a prostatettomia radicale l'anno significa che ogni anno c'ha due tre pazienti con un'incontinenza urinaria totale e questo chiaramente oggi è un po' un altro parametro da valutare come diceva lei prima si guardava solo alla sopra anche alla qualità della vita di questo paziente certamente la qualità della vita rimane un punto importante anche perché dai 50 anni in poi c'è ancora un grande pezzo di vita da vivere professore bene andiamo ora al primo punto quello più importante dell'intervista a Catania per la prima volta in Sicilia arriverà la radioterapia ipofrazionata o meglio l'uso della radioterapia ipofrazionata per aggredire senza bisturi il il tumore alla prosa ecco noi ringraziamo la regia ci sta mandando alcune immagini girate proprio stamattina al canizzaro di Catania facciamo vedere un po il vostro reparto e anche guarderemo insieme la sala dove viene preparato il paziente prima di essere inviato trasferito in radioterapia ecco cosa accadrà da qui a poco professore allora una cosa importante da sapere è che il tumore della prostata e per questo è molto importante l'equip multidisciplinare il tumore della prostata si può trattare con identici risultati di sopravvivenza sia con la chirurgia che con la radioterapia la radioterapia convenzionale e lui aveva il problema delle sedute di 40 sedute di irradiazione da fare quindi cioè la dose veniva frazionata in 40 sedute e cinque sedute la settimana significano praticamente due mesi di terapia poi se arrivati a fare un iprofrazionamento della dose cioè questa dose invece di essere divisa per 40 sedute è stata divisa per 20 sedute e questa è una cosa che già oggi facciamo e dal mese di aprile potremo farla addirittura ridotta a cinque sole sedute e allora è importante già oggi devo dire ho detto d'aprile già noi abbiamo trattato dei pazienti per la verità sono stati dei ritrattamenti una cosa che in passato non si faceva cioè pazienti radiotrattati che hanno avuto una ripresa della malattia che non rispondeva alla terapia medica e abbiamo fatto questo ipofrazionamento sul tessuto residuo perché la radioterapia sia efficace e abbia minore effetti collaterali possibili soprattutto al retto perché la prostata e il retto sono assolutamente attaccati ad esi oggi l'urologo cosa fa prepara il paziente da inviare al radioterapista e come fa con un interventino in transperineale quindi semplicemente con delle punture inserisce dei reperi che possono marcare meglio la ghiandola prostatica e inserisce un gel che distanzia crea uno spazio reale fra la prostata e il retto l'organo si allontana e questo gel rimane in situ per almeno tre mesi il paziente quindi noi ci mettiamo d'accordo con i radioterapisti che vengono in sala con noi quando si fa questo trattamento e quindi il paziente subito dopo il giorno successivo viene poi portato da loro in modo che il fisico e il radioterapista faccio il piano di irraggiamento. Attenzione perché ci potrebbe essere un futuro ulteriore a questo in casi naturalmente molto selezionati pazienti giovani con lesione che grazie alla risonanza magnetica si vede che è assolutamente unica un giorno già in alcune parti d'Europa si fa si potrebbe anche provare a fare l'irradiazione solo della zona del tumore non di tutta quanta la prostata. Questo ancora è il futuro però l'iperfazionamento già di per sé capite bene che in una settimana ci sono cinque giorni di trattamento possiamo liberare il paziente dalla malattia con risultati di non inferiorità rispetto alle 40 sedute. Naturalmente la radioterapia non espone a rischi di incontinenza e il rischio della disfunzione erettile è sicuramente molto ridotto e in ogni caso è superabile con il trattamento farmacologico con le famose pilloline che noi oggi disponiamo, cose invece che purtroppo dopo la chirurgia non sempre è possibile. Capisco professore, quindi mi pare di capire che la funzione del gel è una funzione cuscinetto diciamo meccanicamente intesa, ho capito bene. Esatto, è un distanziatore. È un distanziatore vero e proprio. In modo che le irradiazioni non colpiscono la parete del retto dando delle infiammazioni fastidiose. Perfetto, mi chiedevo professore se proprio tutti i soggetti colpiti da carcinoma possono accedere a questo tipo di soluzione. No, allora il tumore della prostra è una malattia molto eterogenea, si va da microfocolai che noi non operiamo ma che teniamo in sorveglianza attiva con un tasso di sopravvivenza del 97% se il paziente ci segue naturalmente fa i controlli e ripete le biopsie, quindi passiamo dalla sorveglianza quindi da microfocolai innocenti a malattie molto più gravi. Lei tenga presente che hanno fatto uno studio negli Stati Uniti, hanno fatto l'autopsia a 500 uomini morti per incidente stradale e la presenza di un microfocolaio era presente anche a 30 anni di età e lo aveva il 70% dei 70 anni, quindi questi vanno esclusi, però le forme di rischio basso intermedio sono quelle che possono fare l'ipofrazionamento, ma diciamo soprattutto perché su questi vi sono studi clinici acclarati. Quindi è possibile che anche nel tempo questa si possa andare avanti, però per il momento sono con i pazienti a rischio basso o intermedio ma come del resto, come le dicevo, la stessa chirurgia conservativa, quello del risparmio dei nervi e dell'erezione può essere fatta anche in questa categoria di persone, non può essere fatta a quelli con un tumore più avanzato perché altrimenti corriamo il rischio di preservare la potenza ma lasciare la malattia. Professore un'ultima domanda, nel caso ci si possa sottoporre a questo tipo di trattamento le vescicole seminali vengono risparmiate oppure no? Allora, il campo include prostate e vescicole seminali, poi naturalmente tutto ciò, come le dicevo, anche il motivo per cui, come le dicevo, pazienti con malattie avanzate non fanno per il momento questo tipo di trattamento è perché noi ci dobbiamo porre il problema non solo delle vescicole seminali ma dei linfonodi anche e quindi il riallaggiamento più esteso è quello che poi prende tutta la pelvi perché se è una malattia a rischio avanzato, è una malattia che ha la possibilità di avere i linfonodi presi dal tumore e così come noi chirurgicamente li andiamo ad asportare il radioterapista deve andarli ad irradiare. Quindi ho compreso che purtroppo magari per i pazienti più giovani potrebbe esserci comunque questo svantaggio nel caso ci sia, diciamo, siano almeno fortunati in questo, nel caso possono attivarsi con questa con questa radioterapia ipo-frazionata. Ma allora, in realtà, ogni qualvolta, io dico sempre che ogni qualvolta io consegno l'esame istologico di tumore della prostora a un paziente, so che devo dedicargli tre quarti d'ora perché poiché la sopravvivenza è la stessa, è il paziente che deve scegliere e per scegliere, per essere libero di scegliere, deve essere correttamente informato su vantaggi e svantaggi. Poi è ovvio che ci sono casi particolari, cioè se il paziente ha delle comorbilità elevate, ha avuto un infarto, l'ictus, è meglio non fargli correre il rischio della chirurgia o dall'altra parte, se un paziente può subire la radioterapia, però ha dei disturbi urinari importanti legati non magari al cancro, ma all'ingrossamento totale della ghiandola prostatica, tanto vale, si opera e risolve tutti e due i problemi. Però, le ripeto, nel soggetto giovane anche, noi dobbiamo dargli un'informazione corretta. Io sono chirurgo e quindi come tutti i chirurghi posso avere la tendenza a operare, ma devo informarlo che può esserci un'alternativa. Devo spiegargli per carità che l'intervento chirurgico è l'unico che dà una stadiazione della malattia perché abbiamo l'esame istologico. Ricordiamoci che se facciamo la radioterapia l'unica istologia che c'è è quella della biopsia, però, come ribadisco, la sopravvivenza è assolutamente la stessa. Quindi è il paziente che deve scegliere. Bene, professore, lei è stato veramente chiaro. La notizia comunque che questa radioterapia epofrazionata arriverà in Sicilia, al canizzero di Catania, anche se abbiamo capito che tutto sommato è già arrivata in qualche modo perché avete già avviato i primi procedimenti. Ci sembra un'ottima notizia. La ringraziamo per la sua chiarezza, per averci dedicato il nostro tempo e speriamo di vederci ancora una volta per nuove e importanti novità. Arrivederci. Arrivederci e grazie a voi dell'invito.